fermate tu sei un imbecile con rimorchio ma perché come con rimorchio perché dietro c'è un altro imbecile come te chi è questo quel so io le quanto bello chi è so io chi è so io ma io chi sto cazzo guarda come te piace sta macchina ma che stai a fauno come fai vai vai meglio 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 vai 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 non sei bello vai 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 ma voglio adesso che porto su un bel posto se non ti fa una sorpresa mi raccomando è sei sei fai le carezze mancava il tappo del serbatoio che l'ho lasciato di ceramica era di ceramica ma sta zitto era di ceramica o no dimmi se era di ceramica